Trasmettiamo Geriatria in Onda a cura del professor Carlo D'Angelo Amici di Ascolto, buongiorno. L'argomento che trattiamo oggi come patologia geriatrica è un argomento che può essere ritenuto di scarsa importanza. Abbiamo purtroppo delle malattie molto importanti, come ad esempio il diabete, l'infarto, l'insufficienza respiratoria e così via. Parlare allora di infezioni urinarie può sembrare quasi banale. Invece anche questo è un capitolo molto importante in geriatria perché le infezioni urinarie sono più frequenti di quello che noi riteniamo e sono più frequenti in uno dei due sessi nella donna e questo per motivi anatomici e per motivi che esamineremo fra poco. Queste sono le infezioni urinarie? Sono dei processi infiammatori a carico dell'uretra e della vescica, quindi infezioni delle basse vie, o anche degli ureteri, dei bacenetti renali, degli stessi organi principali, cioè del parenchima renale, cioè delle alte vie urinarie. La cosa che può sembrare strana è che in condizioni normali, cioè fisiologiche, diciamo noi come medici, le vie urinarie, quindi l'urina, è sterile. Da dove arrivano queste infezioni? Ve ne è una grande quantità e diverse vie per le quali infezioni si possono realizzare. Pensiamo ad esempio, anche se la patologia è in diminuzione, all'infezione tubercolare a livello renale, in cui il bacillo, il Mycobacterium tuberculosis, viene eliminato con le urine, quindi arriva al livello ematico, dal livello ematico si passa al livello urinario. Ma la maggior parte delle infezioni sono batteriche, sono aspecifiche e sono sostenute da comuni germi, ad esempio come le scherichie coli, di cui ne abbiamo tanti, di questi germi a livello del nostro colon, miliardi addirittura, o dallo Staphylococcus saprophyticus, che è responsabile di molti casi di infezioni urinarie, ma anche da altri germi con nomi latini, come ad esempio lo Pseudomonas, la Serrazia, il Proteus, la Clebsiella, la Candida e così via. Perché si hanno queste infezioni? Perché dei germi raggiungono un tessuto, quello renale o le vie escretrici, che non devono essere raggiunti. In base alla frequenza con cui tale infezione si verifica, possiamo parlare di infezioni occasionali o di infezioni ricorrenti. Un esempio di infezioni occasionali può essere proprio la cistite, che in genere non esiste una donna al mondo che non abbia avuto almeno una volta una cistite, un'infezione della vescica. E questo è dovuto alla risalita dei germi, molte volte a livello dei genitali, proprio da contaminazione fecale, dall'escherichia che viene eliminata con le feci. Le infezioni ricorrenti sono invece più frequenti nell'uomo, e pensiamo in questo caso all'anziano con la prostata, in cui il ristagno dell'urina e la scarsa eliminazione, la difficoltà di eliminarla, possono portare a queste infezioni urinarie. Diciamo che sono abbastanza frequenti le cistite, le cistopilite, in tutte le età della vita, dal neonato addirittura fino all'età geriatrica di cui noi ci interessiamo. E questo perché vi possono essere delle malattie intercorrenti. Pensiamo ad esempio che il diabetico, molto più spesso di altri soggetti, si ammala di infezioni urinarie. Perché? Perché con l'urina elimina lo zucchero. Se voi mettete dello zucchero su un tavolo e c'è una sola mosca in casa, la mosca andrà su quello zucchero. Quando lo zucchero è nelle urine, i germi andranno su quelle urine e daranno infezione. Ma vi sono anche altri problemi. Molte persone fanno dei trattamenti con immunosoppressori. Molti usano il cortisone. Vi sono delle malattie debilitanti, malattie in cui si sta molto a letto. Pensiamo a persone fratturate, emiplegiche, ad anziani che non si alzano più. Ma anche in condizioni fisiologiche, la gravidanza, per quella che è l'imbibizione dei tessuti, il peso che grava sulla vescica e anche altre cause, come le possono essere, ad esempio, le calcolosi urinarie, le calcolosi vescicali, le calcolosi del bacinetto renale. Vedete quante cause vi possono essere. Vi dicevo che si possono avere queste infezioni nel bambino. E questo molte volte è dovuto più delle volte a delle alterazioni del giunto piel uretrale, cioè a delle malformazioni presenti dalla nascita, ma anche molte volte al reflusso che si ha tra la vescica e l'uretere. Un 10% dei bambini va incontro a questa patologia, patologia che aumenta anche durante quella che è la vita, il ciclo riproduttivo, la vita feconda dell'uomo e della donna. Nei maschi in realtà è meno frequente la cistite, la cistopilite, fin verso i 50 anni, quando però comincia a comparire per quei problemi che vi dicevo che sono legati alla ipertrofia prostatica. Se dovessimo dire quali sono le classi di età in cui più frequentemente si verificano queste infezioni, è proprio le classi di età dei 70-80 anni. Si calcola che dopo gli 80 anni anche un elevato numero, il 20-30% di donne, possa avere un'infezione urinaria, così come gli uomini. Purtroppo queste infezioni si verificano più frequentemente a livello anche di ricoveri, di residenze sanitarie assistenziali, di luoghi di cura, di lungo degenza, quando un paziente anziano debilitato rimane lungamente a letto, quando vi è una cattiva igiene della zona perineale, specialmente nelle donne, quando la vescica si vuota incompletamente, perché ad esempio vi è un prolasso uterino, vi è un cistocele, c'è un abbassamento della vescica, vi è un abbassamento del pavimento pelvico, che è costituito da muscoli. Il pavimento pelvico sia per l'età, sia per le gravidanze, sia per altre cause avute in precedenza. E molte volte questo è complicato il tutto dall'uso di un catetere, di cui parleremo fra poco. Una particolarità che va tenuta presente nella donna è soprattutto quella che è legata al suo patrimonio ormonale. Vedete, si ammala più spesso magari di infezioni urinarie, di cistiti, la bambina, la ragazza in età prepubere, e la persona, dopo donna, dopo la menopausa. Questo perché? Perché a livello dei genitali femminili esiste un particolare bacillo, che si chiama bacillo di Doderlein, il quale mantiene il pH, cioè l'acidità locale, ad un tale livello, e nutre l'ormone, l'estrogeno, soprattutto il tessuto locale, cioè l'epitelio, le mucose vaginali, in modo tale che vi sia una resistenza nei confronti delle infezioni. La bambina piccola non ha ancora tutti questi estrogeni, tutta questa ricchezza ormonale della donna matura. La donna in menopausa ha una riduzione degli estrogeni, degli ormoni, per cui più frequentemente saranno queste infezioni. Vi dicevo anche dei soggetti diabetici, vi dicevo anche della scarsa igiene che ci può essere a livello delle vie digestive e scrittrici, dell'ano ad esempio, e la possibilità che determinati microrganismi, come l'escherichia, possono dare delle infezioni per via ascendente, cioè risalire lungo le vie escretrici urinarie. Una caratteristica che è stata osservata ormai da tempo è che l'escherichia coli, che è presente, dicevo, in grande quantità, in grande numero, ha la possibilità di sintetizzare delle proteine e di costruirsi delle fimbrie o pili, cioè come se si costruiscono degli attacchi per aderire all'epiteglio vaginale ed urinario e in questo modo dare anche delle infezioni croniche, quando non danno delle infezioni per via ascendente. Quali sono le manifestazioni cliniche per tenere presente che abbiamo un'infezione urinaria? Quali sono? La cosa più frequente è la disuria, cioè la difficoltà a urinare, o la pollaciuria, pollakis, spesso è il termine greco, di andare a dover urinare molto spesso, anche avendolo fatto 5-10 minuti prima, può essere anche l'urgenza e l'improvviso bisogno di urinare e non poterla trattenere, ma un segno molto importante di infezione urinaria seria è quando improvvisamente si ha una febbre improvvisa che può dare anche sepsi, improvvisamente il paziente comincia a tremare a freddo, deve coprirsi con più coperte e poi improvvisamente la febbre sale anche a 38-39. Un altro segno da tenere presente è l'ematuria, cioè il vedere le urine colorate di sangue o francamente ematiche. È un sindomo che impressiona moltissimo il paziente, ma molte volte è soltanto una cistite emorragica e non è una vera e propria emorragia. Quando il quadro clinico è complesso e l'infezione dal livello urinario passa al livello ematico, cioè si ha una sepsi, si possono avere sintomi più gravi, difficoltà respiratoria, nausea, vomito, anche confusione mentale, specie negli anziani. Un altro segno da tenere presente è l'odore delle urine. Quando portiamo le urine in laboratorio, il più delle volte troviamo scritto anche sul referto odore sui generis. È l'odore che le urine emanano normalmente, ma in alcuni casi le urine possono avere un odore ammoniacale, pesante, un odore strano, vuol dire che c'è un'infezione. Anche parlando di esame urine abbiamo detto portare le urine in laboratorio. Esistono determinati esami da poter chiaramente definire. Se noi facciamo un esame normale delle urine, si chiama esame chimico-fisico. Basta una qualunque provetta, anche non sterile, un contenitore pulito, un vaso di vetro, per portare le urine. Se però dobbiamo fare un'urinocultura, cioè un esame che richiede l'individuazione di alcuni germi a livelli urinari, bisogna essere più attenti. In questo caso acquisteremo in farmacia un contenitore sterile. Faremo in modo, quando apriamo il contenitore, togliamoci questo grosso tappo che c'è, di rovesciare questo tappo, fare in modo che poggi sul tavolo con la parte superiore, con la parte che non si avvita, per parlarci chiaramente, altrimenti mettendolo con la parte che si avvita sul tavolo lo inquiniamo. E poi bisogna raccogliere le urine. Sia l'uomo che la donna non hanno difficoltà a far questo, se ne sono sufficienti. Ma fare in modo di iniziare a urinare, la prima parte di urina mandarla giù nel water, trattenere l'urina e far introdurre nel contenitore la seconda parte del mito di quello che stiamo urinando. È come se noi facessimo un washout, una pulitura, un lavaggio delle vie scrittrici con la prima parte che sicuramente può essere infetta. Perché si fa? Si fa questa urinocultura. Per avere la possibilità di individuare un antibiotico che sia quello più adatto. E anche qui dovremmo dire che non bisogna esagerare con gli antibiotici. Perché molte volte non vi è necessità, vi è soltanto, la gente dice, un riscaldamento dell'urina. Cercare di eliminare, se non vi è una batteriuria, un numero di batteri elevato, non occorre mettersi a prendere antibiotici. Anche perché sta aumentando il fenomeno notevole della resistenza agli antibiotici. Abbiamo già detto della urinocultura. Ci rimane da dire ancora della terapia. Ecco, per quanto riguarda la terapia, vi parlavo di una terapia fatta dopo osservazione con l'urinocultura. Ma il più delle volte per una comune banale cistite non dobbiamo arrivare all'urinocultura. Sarà il vostro medico a prescrivervi i farmaci più adatti. In genere si usa la moxicillina protetta, si usa anche il trimetrofim sul fametazolo, oggi molto meno. Anche dei farmaci chinolonici, florchinolonici, la cilofloxacina, a basso dosaggio. Non bisogna esagerare con questi farmaci negli anziani. Quando l'infezione urinaria è complicata, sarà il medico a ordinarvi sempre un florchinolonico o addirittura della terapia anche per via intramuscolare con delle iniezioni. Vi dicevo che occorre anche fare un po' di prevenzione, soprattutto negli anziani. Importante l'igiene perineale sono quelle misure da adottare per evitare delle infezioni anche a livello, per esempio, della donna anziana. Bisognerà fare in modo di evitare, di proteggere oppure operare quello che è il prolasso uterino, il cistocele, l'abbassamento della vescica. È anche facile ricorrere a delle creme locali nelle donne a base di estrogeni, proprio per evitare quell'atrofia delle mucose di cui parlavo prima, e quindi evitare l'instaurarsi di colonizzazioni batteriche. Nell'uomo il discorso è ugualmente complicato perché la prostata, che è situata al di sotto della vescica, che aumenta di volume, sporgendo, dà luogo al ristagno e il ristagno diventa un pavulum per i germi, così come una pozza d'acqua può diventare ristagno per i girini e le rane. Dobbiamo eliminare allora queste cause fin quando è necessario. Molte volte non si riesce a urinare e bisogna applicare un catetere. Ecco, il catetere è ugualmente sorgente di infezioni. Va fatto sempre in modo sterile, sarà l'infermiere professionale o il medico da porre il catetere, si farà in modo di tenerlo il minimo possibile, si farà in modo di utilizzare la catalizzazione per alcuni giorni. Quando serve invece portare il catetere a lungo termine, sarà necessario provvedere con il nuovo sistema di raccolto urinario chiuso, proprio per evitare queste infezioni. Sembra che l'estate debba arrivare, anche se molto più spesso in questo periodo abbiamo piogge improvvise ed acquazzoni, ma ormai siamo alle porte della stagione estiva, del grande caldo. Perché sto dicendo questo? Perché le infezioni urinarie sono più frequenti, soprattutto nel periodo estivo. E questo è negli anziani. Questo perché? Perché la vescica ha bisogno di essere pulita, di essere lavata, e allora occorre bere tanta acqua, soprattutto in estate, quando andiamo a perdere attraverso la sudorazione, il respiro, il sudore, una quantità maggiore di liquidi. E allora, in occasione dell'estate, facciamo in modo di prevenire quella che può essere questa patologia. Ricordiamoci che il bambino piccolo beve sempre e spesso. Molte volte non bisogna dirgli di bere. nell'anziano il senso della sete è ridotto e molte volte dobbiamo ricordarci noi di avere un apporto idrico importante. Molte volte dico anche a qualche signora vede signora per pulire il lavandino ci vuole un detersivo ma se mette soltanto un detersivo o un sapone non l'acqua e il lavandino non lo pulisce. Ecco allora che il nostro lavandino che è la vescica va trattato molte volte con un antibiotico se necessario ma va trattato sempre con dell'acqua e allora l'invito è a bere di più logicamente a bere acqua o liquidi di vostro gradimento. Arrivederci ai prossimi incontri. da Radio Speranza abbiamo trasmesso Geriatria in onda a cura del professor Carlo D'Angelo o l'invito è 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 o l'invito è